A tutti che questo non sia un short o altre cose, questo è piante versus zombie, dobbiamo andare in un'isola, vulcano, per la seconda abilità di pulire le scarpe. Non so perché mi hanno detto stabilità, vabbè però a me piace, zombie venite qua amici, amico di distanza, qua mi sembrerà, amicante di distanza, mi mancate così tanto. Che ne ho ancora uno, che ne ho ancora uno, che vi faccio a pezzi, proveremo altri zombie, oh mio Dio, è vero non mi ha detto una cosa, dovete iscrivervi.